Non ti muovere! Fermo! Sei della sicurezza? Non esattamente. Lavoro in lavanderia. Tu? No, sono qui per caso. Umani insignificanti. Ora noi, Avatar, lavoreremo per i mobs. Sì. E ci seguirà anche io. Ma cosa? No! Pagherai per il settimbre! Grosse rubie! Lavandaglia di tutti! Attenta! Roxy! Nessuno può fermare i mobs! Non! No! 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 Scendi, giù! No! No! Ora basta! Il Morphin Grid alla fine abbarterrà a E-Box! Perché combattere? Cosa? No! Sequenza di Morley, partita Cosa è successo? Si sono trasformati in Power Ranger Wow, ha ragione Tu sei il Yellow Ranger Non ci credo Non ti puoi vedere, ma sei il Red Ranger Non so chi siete O cosa siete Ma non siete Blaze e Roxy Capitano Occhio Come ho fatto? Hai il DNA di un guepardo È stato incredibile Deve essere merito del DNA di lepre Proviamo la mia forza da gorilla Bel colpo Dobbiamo trovare il modo di liberarcene Ehi, quegli affari possono spostare qualunque cosa Affirmativo, qualunque cosa sia fra i raggi Bene, Nate, teletrasportali il più lontano possibile Alza No! Ci sono quasi Pronto Blue, distraili Ok In partenza Pronto Via Spostati Ma cosa? Ha funzionato No! 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 Andiamo! Lassù! Quello deve essere il pulsatore di Vargoil. Il mio intuito non smette mai di stupirmi. Facciamolo fuori! Sembra che abbia una specie di scudo. Dobbiamo andare lassù. Vado io. Attento! La torre è elettrificata! Cosa facciamo? Andrò a cercare l'interruttore e disattiverò la corrente. Se vuoi farlo, ti conviene sbrigarti. Non abbiamo tempo da perdere. Intanto inizio ad arrabbicarmi. Sono per metà robot, quindi potrei farcela. Va bene. Buona fortuna. Cosa fai qui? Dov'è l'interruttore principale? È un'emergenza. Da quella parte. Puoi scappare, ma non nasconderti. Puoi scappare, ma non nasconderti. E va qui l'edificio. Sì? Non avresti dovuto intrometterti. Il tuo amico robot ci resterà secco sopra quella torre, mentre io ti distruggo qua giù. Beh, il mio amico mi ha insegnato qualche trucco. Trasformazione! Attivare Beast Power! Scatena la forza! Eh? I miei Beast Power! Scrozzle! Sono a corto di Morphix! Sembra che ti basti solo per la velocità del Gepardo. Ti dimanderò altro se mi lo chiederai, per favore. Io non credo. Ehi, ma che cosa ti prendi? Parcoglia ha bisogno di quel Morphix o potrebbe essere distrutto? Oh no! Sarebbe una vera tragedia. Ah, adesso capisco. Niente? Davvero? Che traditori! Fortunatamente, continuo a rimanere più forte di te. Trasferimento! Mi ricordavo di essere un Ranger, ma ricordo ancora come si combatte. Ah, vatti sotto! Fuocopista! Ti sconfiggerò col tuo stesso Beast Power! Sei già stanco? Neanche per sogno! L'ultimo sforzo! Oggi sono quasi! Mi ricordo tutto ora! Ce l'ha fatta! Steel, mi è tornata la memoria! Steel! Uno strano concetto di fortuna! Scappiamo, Sorallona! Vai, 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 vai! Salta su! È pedala! Ti ho in fretta, Ben! Un vero leader compie un atto di coraggio di fronte al pericolo. Ed è quello che ho sempre fatto. Se mi rieleggerete, sindaco, è quello che continuerò a fare. Così si può fare questi secondari! Si stanno attaccando! Mettetevi al sicuro, in fretta! Dronik! Signor sindaco, non può restare qui! Come i ranger, non lascerò da sola questa gente indifisa. Giusto, figliolo? Devil! Devil! Non posso crederci. È impossibile. Aiuto! Grazie! Venga, da questa parte. Non avvicinarti a me, ok? Tranquilli, ragazzi, ci siamo noi! Ci sono anch'io! Giusto in tempo, Devon! Cosa mi sono perso? Nessuna traccia dell'avatar di Roxy. I megatrasferitori sono laggiù, in un furgone grigio. Ottimo lavoro, voi due. Andiamo! Ciao! Avanti, ragazzi! È il tuo furgone! Scrozzon, muoviti! Porta qui la torre Morfix. Non posso farlo! Tutti e tre i megatrasferitori devono essere piazzati intorno alla torre prima di poter essere attivati. E al momento, sono in un furgone! Grazie a voi due, avatar incapaci! I Ranger stanno per metterci le mani sopra! Cosa? Quei Tronic sono inutili! I Ranger non possono avere i traspiritori. Ci serve un diversivo. Manda un Gigadron! Qual è la parolina magica? Adesso! Ah! E va bene! Senza di me sareste spacciati da un pezzo! Lama Beast! Prendiamo i trasferitori! Andiamo! Eccoci qui! E vai! Sono loro! Comandante! Abbiamo recuperato tutti e tre i megatrasferitori! Come sta Roxy? Purtroppo sta peggiorando, ma è sotto osservazione. Ravi, riportare i trasferitori alla base è una priorità assoluta. Non devi distrarti per nessun motivo. Sì, signora. Ci penso io! Voi quattro, invece, dovrete occuparvi di un Gigadron. Atterrerà nel settore E15. Sto per azionare gli Zord. Ricevuto, comandante. Muoviamoci! Sembra che i Ranger siano arrivati prima di voi! Il Blue Ranger sta trasportando i trasferitori! Credo di avere un'idea. Tu! Ma dove sta andando? Ravi, riportare i trasferitori alla base è una priorità assoluta. Non devi distrarti per nessun motivo. Distruggiamo il suo, Avatar. Dovrebbe svegliarsi, no? Mi dispiace, mamma. È la mia unica occasione. Ti ho presa! Preparati a essere distrutta. Non oggi, tesorino. Tu e la tua ragazza avete i minuti contati. Puoi starne certo. Tu e la tua ragazza avete i nostri, ma anche ottimi amici. Oh, Steel! Mi dispiace così tanto. Tu non sei affatto una creatura orribile. Grazie, lo so. Sono fantastico. È bello riavervi. Entrambi. Devon, come procede? Tutto a posto, comandante. Bel lavoro, ma ho cattive notizie. Un Robotron sta cercando di rompere in una torre Morphix, settore Bravo 4-8. Lo fermeremo, comandante. Muoviamoci. Fermati! Scegli immediatamente! Ben fatto, Spiketron! Ora abbiamo un camion pieno a zeppo di Morphix. Ci hai messo tutta la mattina, era anche ora. Almeno quegli stupidi ranger sono impegnati a travestirsi grazie al mio film. Ecco lì! Cosa? È impossibile! Vi mangio per colazione con la mia forchetta. Saremo un boccone amaro da ingoiare. Trasformazione! Per attivare Miss Power! Scatena la forza! Tronic! Andate a prenderli! Il piano del buon vecchio Scrasal non è finito. È l'ora del Cicachon! Oh no! Qualcuno dovrà occuparsi di quel Gigadron. Andate voi. Io continuo qui. Ok! Comandante, azioni il Racer e il Chopper Zog! Ah! 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 Dobbiamo rallentarlo! Zoi! Ci sono! Trafica esplosiva! Eh? Cosa? Oh no! Cosa? Oh no! È un modello Delta! Pronta, Zoi? Come sempre! Quel Gigadron è più forte degli altri! Allora dobbiamo dare il massimo! Andiamo! Devone Zoi sono nei guai. Dobbiamo aiutarli. Dovresti aiutare te stesso! Ravi, tu va. Pensiamo noi all'argenteria. Ok. Smash! Portami il Will & Zod. Arrivo subito, Ravi! Ah ! Ah! 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 Teniamolo! Avola Striker! Caricamento! potere dello scarabeo potere della macchina lama striker beast gran bel lavoro grazie rapi sapete che penso è l'ora del megazord beast x megazord combinazione ma prima trasformazione attivare beast power scatena la forza ok squadra il dovere chiama vai fratello i ranger hanno distrutto la mia cyber dimensione riserverò lo stesso trattamento al loro natale guarda un po chi c'è qui un felice natale scrozzle fidati non sarà affatto felice per voi sì funziona ma cosa è successo nate sei una decorazione che presto lo sarai anche tu mio caro trasferimento sciabola striker ma cosa hai fatto mio fratello quello che farò anche a te questo affare deve aver finito il morfix per fortuna ne ha un po' da parte tralic date una lezione al nostro uomo di latta fatevi sotto è pericoloso giocare con il fuoco ma mi chiamo inferno tron io sono il fuoco vorrà dire che ti spegneremo andiamo lo vediamo lo sei inferno tron per te non ci sarà un buon natale né un felice anno nuovo tocca a me non oggi testa calda neanche tra mille anni fuoco misto ci penso io chiedi quella spada lontana da me nessuno può portarci via il natale trasferimento cannone bistix pronto lo abbiamo preso ora devon cannone bistix fuoco direi che l'abbiamo conciato per le feste sì still ragazzi scroo solo ha fatto qualcosa ne intervenite subito arriviamo presto non potete fermarmi still ricopriamo noi grazie ragazzi dov'è nate? è stato decorazionato deco che? guardate scroo solo mi ha trasformato in una decorazione natalizia dobbiamo farlo tornare normale attenti no no zoi demoni siamo in trappola non possiamo più uscire still oh è in un colpo solo non male per un vecchio modello non credete? ora basta bravo ravi tocca a me mio avete rovinato il mio piano ma non è ancora finito ragazzi tranquilli vi tireremo fuori da lì forse questo aggeggio ha un qualche interruttore sei sicuro di sapere quello che fai? certo che è sicuro forza still puoi salvarci e ci riuscirò mio caro fratello pallina fortunatamente ti ho osservato mentre lavoravi e gli fa attenzione con quello è pericoloso grazie ma quando si tratta di marchi ingegni robotici io sono il maestro a fare due passi per riflettere sembra a posto Devon un attimo finalmente collegato bene se Scrozzle manderà un altro gigadron saremo pronti pronti a essere sconfitti un robotron l'hanno aggiustato in fretta quel computer c'è solo un modo per rimediare trasformazione attivare Beast Power scatena la forza trasferimento Blaster V-Sticks fatti avanti conti e ciri cosa? i Blaster li ha disintegrati come vedete oggi ho gli attrezzi giusti per farvi a pezzi ci basterà trasferire altre armi ottima idea i trasferitori non abbiamo altre armi sarà più dura del previsto preparatevi al prossimo numero tra poco vi farò vedere come si smonta un Ranger io? saluta pure i tuoi amichetti robot saluta pure i tuoi amichetti robot Steel tieni preso bella mossa ma mi hai mancato ehi guarda il detector ora basta va a cercare il Yellow Ranger e distruggi anche le sue armi a loro quattro penserò io e riazzetto cos'è successo? quel colpo ha disintegrato il detector allora Benebetti lo avevano davvero installato oh no Zoe diceva la verità poveri sciocchi forza del gorilla non mi sembra proprio il caso cavolo per poco dove sarà quel Robotron? è in cerca di Zoe rispondi Zoe un Robotron ti dà la caccia Zoe mi senti? non risponde forse tu Troll l'ha trovata Jax sei per caso dove Zoe? ha detto di aver bisogno di pensare probabilmente è a Forstner Park ok bene andiamo mi servirà l'aiuto di Cruz no il mio Morpher è un piccolo trucco del mestiere e non è finita qui Trannic non muoverti o ti rispedisco da dove sei arrivato senza il tuo Morpher né i tuoi amici non penso proprio sì lo sapevo ha appena usato i suoi poteri di lepre Zoe stai bene io sto bene ma il mio Morpher Cruz ti serviva questo? ecco i trasferitori fantastico grazie Cruz ora facciamogliela pagare a quel mostro forza ragazzi trasferimento fuoco bestie il suo blaster fuoco che bel colpo grazie lo avete steso ma non è ancora finita attivare best power ora me la pagherete cara non credo proprio trasferimento sciabola bestie vi faccio vedere io ranger preparatevi via ci siamo ti smonterò le armi con le mie mani gli diamo una lezione? affermativo trasferimento blaster ti ridurremo a un ammasso di ferraglia fuoco bestie prendi questo impostore steel? sono io no sono io non ascoltatelo sta mentendo cosa? non è vero è un robotron stava per distruggere il computer poi mi ha scannerizzato e si è trasformato in un clone di me stesso tu l'hai fatto non io nate sono io il vero steel perché qualunque cosa succeda ci sosteniamo a vicenda siamo fratelli no? tu chi sei veramente? cosa? io sono io il vero steel ho sempre pensato di essere perfetto e di solito lo so ma oggi ho commesso un grave errore quando hai detto che non volevi giocare a basket pensavo semplicemente che preferissi fare i tuoi esperimenti non credevo che che non sapessi come si gioca finché non l'hai detto a Zoe ai miei occhi il mio fratello sa fare tutto mi hai costruito tu non ho mai pensato che esistesse qualcosa che non sapevi fare mi dispiace Nate potrai mai perdonarmi per averti ferito purtroppo gli umani lo fanno spesso ma certo che ti perdono vieni qui fratello patetici che storia commovente state giù missione compiuta dobbiamo inseguirlo aspetta ha distrutto il computer adesso sarà impossibile azionare gli Zorn non puoi ripararlo certo che può mio fratello può fare tutto perché ci sarò io ad aiutarlo ce ne occupiamo noi voi fermate il Robotron dimmi cosa fare devo essere disinvolto niente di meglio di una fuga aver riuscito ora devo solo oh accidenti ti piace clonare i Ranger ma ora dovrai vedertela con quelli veri trasformazione attivare Beast Power scatena la forza non doveva finire così sarà anche bravo a copiare ma dovrebbe impegnarsi un po' di più è nostro non ne sarei così sicuro ehi torna qui Nate ci servono gli Zord ci stiamo lavorando presto fa loro scroso Ranger senza Zord una passeggiata trasformazione modello alfa in cloned gigatron in arrivo Devon il tuo Zord può di nuovo essere azionato stiamo lavorando sugli altri grazie Nate vi lascio l'onore di finire questo imbroglione ehi non c'è bisogno di essere offensi prendete questo ranger a terra Grazie a tutti.